Il TFR o liquidazione è un asset fondamentale per la tua pianificazione finanziaria. In molti però non prestano la necessaria attenzione all'ottimizzazione di questa risorsa, che spesso rischia di disperdersi in numerose tranche o di restare parcheggiata senza fruttare quanto potrebbe. Molti considerano la liquidazione come una sorta di bonus, ma è importante essere consapevoli che, con una buona gestione, il TFR può diventare una risorsa fondamentale per raggiungere gli obiettivi finanziari più importanti della vita, uno su tutti la pensione. Nel medio-lungo termine la scelta migliore per il TFR è trasferirlo in una forma di previdenza integrativa, una soluzione che offre anche ottimi benefici fiscali. Dati alla mano, i rendimenti del TFR in azienda sono dell'1,5% all'anno, più il 75% dell'inflazione. Con uno strumento previdenziale che investe nei mercati azionari, leghi invece la reddittività del tuo TFR alla crescita dell'economia globale. Questo ti garantisce inoltre un elemento di diversificazione, non vincolando eccessivamente il tuo risparmio alla situazione economica dell'Italia, alla quale sei già sufficientemente esposto con il tuo lavoro e con le tue proprietà immobiliari. Ma non solo, i vantaggi fiscali sono evidenti. Una tassazione che scende fino al 9% contro il 23% minimo del TFR in azienda. Si dirà, lasciare il TFR in azienda mi offre più flessibilità nell'utilizzare le mie risorse. Niente di più sbagliato. Se risparmi e investi con obiettivi di lungo termine, risolvere questa voce di investimento con il TFR ti permette di avere più risorse accantonate e strumenti flessibili con obiettivi di breve e medio termine. Una buona fetta dai conferimenti nel piano di previdenza integrativa può essere sbloccata dopo 8 anni per le spese importanti, quali l'acquisto e la ristrutturazione della casa. A differenza del TFR in azienda, che resta legato alla tua permanenza sul posto di lavoro. Un aspetto, direi, difficile da prevedere. Il team di consulenza di Monifarm è a tua disposizione, per individuare la collocazione più efficiente del TFR nell'ambito della tua strategia finanziaria. Grazie a tutti.